...drexel che oltre alla felizia tecnica ci testimonia direttamente attraverso la scelta e il talento improvvisativo di Adel. Lui del termone pezzi che era una viola medaglia che non si intende a essere la società di numero 10 ha detto che è la comunicazione della viola medaglia che non si intende. La viola medaglia che non si intende a essere la scelta. La viola medaglia che non si intende a essere la scelta. La viola medaglia che non si intende a essere la scelta. La viola medaglia che non si intende a essere la scelta. La viola medaglia che non si intende a essere la scelta. La viola medaglia che non si intende a essere la scelta. La viola medaglia che non si intende a essere la scelta. La viola medaglia che non si intende a essere la scelta.